un grande ciao a tutti dal vostro sindaco di aspic italiano il vostro amico paolo è tornato è di nuovo qui vi manda un caloroso saluto dall'italia come sempre e è di nuovo a vostra disposizione per fare un po di pratica con l'italiano il vostro amico paolo quindi vi dà il benvenuti all'episodio numero 744 del 4 aprile 2024 eh sì il mese di marzo è finito siamo in un nuovo mese nel mese di aprile finalmente ho fatto pace con l'orologio dopo i primi giorni passati a litigare con l'ora legale ho fatto un casino col mio programma settimanale ma finalmente dopo quattro giorni sono di nuovo in pace con il mio orologio pasqua è finita è alle nostre spalle anche pasquetta infatti è passata è passata con una giornata di lavoro per me in realtà ho speso quasi tutto il tempo in casa invece di essere fuori a fare un picnic con i miei amici studenti da tutto il mondo è stata una bella pasquetta insieme a loro sicuramente il tempo era così così un po' nuvoloso un po' fresco e quindi per me è stato piacevole restare a casa e passare la pasquetta insieme ai miei cari studenti amici più che studenti e pasquetta era anche il primo aprile per fortuna non ho ricevuto nessuno scherzo nessun pesce d'aprile e devo dire la verità ho notato che non ci sono stati pesci d'aprile molto molto popolari insomma non ho letto sui giornali di pesci d'aprile importanti forse tutti erano troppo impegnati a fare barbecue a mangiare anche nel giorno di pasquetta dopo l'abbuffata di pasqua ma il vostro sindaco non si è abbuffato a pasquetta sono stato bravo sono stato in realtà da solo a parte un po' di tempo con mia madre quindi non ho avuto l'occasione per abbuffarmi ma sicuramente è stata una buona cosa per i miei allenamenti e per la mia condizione fisica ecco meglio non abbuffarmi troppo perché mi sto allenando per una maratona devo dimagrire e questa volta sto facendo un po' di fatica ma ci riuscirò perché adesso le feste sono finite quindi basta abbuffate tempo di essere più seri a tavola e di non esagerare e quindi non esagererò ve lo prometto bene come vi dicevo a pasquetta ho lavorato non ho festeggiato però per fortuna sono arrivate anche belle notizie non le ho date prima perché sono stato un po' impegnato la sera un po' stanco lunedì è stata una giornata lunga martedì anche ho fatto molte cose e ieri non ho trovato il tempo per un nuovo episodio e per dare pubblicità alla bella notizia che aspettavo da tempo vi ho parlato del traguardo di 2000 followers su spotify eravamo 1998 il giorno di pasqua bene siamo finalmente più di 2000 oggi in realtà siamo 2006 su spotify ma siamo in realtà molti di più perché con spotify apple podcast google podcast e anche con youtube siamo praticamente non lontani da 3000 o perlomeno diciamo almeno 2500 2600 ma aspettavo questa bella notizia su spotify ci tenevo molto e finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo insieme abbiamo superato i 2000 iscritti ora dobbiamo puntare ancora più in alto dobbiamo puntare a 3000 4000 e anche di più perché no quindi io vi ringrazio tutti vi ringrazio davvero tanto per questa bella soddisfazione ringrazio i nuovi arrivati ringrazio i vecchi amici non vecchi ma gli amici più cari che sono con me da più tempo ecco ringrazio tutti tutti per questa incredibile soddisfazione non sono numeri piccoli sono numeri enormi grandissimi che a volte mi fanno un po essere nervoso quando accendo questo microfono nel mio stanzino adesso sono nel mio stanzino e anche se c'è un bel silenzio e sono concentrato quando penso a tutte le persone che mi ascoltano sento una responsabilità un po più grande ma comunque sono molto felice ho pubblicato questa sera un po di ringraziamenti anche sui social ho registrato un piccolo video e insomma ho cercato di condividere insieme a tutti voi questa bella emozione questa bella soddisfazione di questo numero così tondo così piacevole da leggere e ovviamente però la sfida non è finita qui la mia sfida è fare sempre di più migliorare sempre di più e cercare di rendere questo podcast sempre più utile ma anche sempre più piacevole per tutti voi ci proverò ci proverò questa sera facciamo un episodio più leggero è più un ringraziamento per tutti voi un saluto un omaggio a tutti voi che mi avete reso così felice comunque per il momento sono un po in ritardo con i festeggiamenti ma penso di organizzare qualche piccolo evento un po più speciale per celebrare questo bel traguardo penso a una diretta insieme a voi e devo solo organizzarmi per un giorno ma mi piacerebbe festeggiare insieme a voi con una bella riunione tra amici in una bella diretta su twitch o su youtube ancora non ho deciso ma mi piacerebbe vedere molti di voi nella chat a guardarmi e la mia idea di fare un episodio in cui risponderò un po alle vostre domande quindi nei prossimi giorni mi organizzerò per ritornare a questi eventi in diretta che mi piacevano molto ma che ho sospeso un po per mancanza di tempo e anche un po per mancanza di ispirazione forse ma adesso sento che è arrivato il momento di ricominciare a ricominciare a incontrare tutti voi in diretta in qualche bella serata di primavera o d'estate quindi restate in ascolto perché molto presto vi farò sapere i dettagli e insomma spero di essere in compagnia di tanti di voi per celebrare come ho detto questo bel risultato del nostro è il nostro italiano in podcast ma purtroppo la settimana non è stata fino ad ora fatta solo di cose piacevoli come festeggiare i duemila iscritti di italiano in podcast ho avuto anche qualche seccatura ieri ho avuto la seccatura del mese questo difficile appuntamento ogni quattro settimane con la consegna della bombola dell'ossigeno a mia madre ogni volta è un'odissea ogni volta è davvero incredibile le difficoltà che devo che ho a quando si tratta insomma di mettermi d'accordo con questi corrieri sembrano gli unici corrieri che non riescono a avere un programma un po più preciso della loro giornata c'è sempre qualche guaio sempre qualcosa che non va sembrano al centro dell'universo sembrano avere tutti i problemi del mondo e per questo non sono in grado di dire mai più o meno anche ora possono passare per fare questo questa consegna sembra impossibile stabilire una fascia oraria di anche due ore magari non so dalle due alle quattro da mezzogiorno alle due sembra impossibile è una cosa misteriosa per me non la capirò mai questa volta ho detto molto chiaramente che per me si tratta di cattiva organizzazione e non è impossibile dare più o meno un appuntamento alle persone secondo questi corrieri noi dovremmo stare tutto il giorno con le mani in mano quindi senza fare niente ad aspettare il loro arrivo perché loro sono supereroi non lo so sono i salvatori del mondo e dobbiamo aspettare pazientemente il loro arrivo ma non voglio arrabbiarmi ancora per questa storia voglio invece pensare alle cose positive oggi infatti è anche un bel giorno per la mia famiglia il 4 aprile è l'anniversario di matrimonio dei miei genitori quindi la data di nascita della mia famiglia come sapete o come molti di voi sanno mio papà purtroppo non c'è più ma questo non significa che questa data non sia lo stesso importante non celebriamo in un modo formale non celebriamo con dei festeggiamenti da un po di tempo diciamo da quando era vivo mio padre ma anche quest'anno come ogni anno ovviamente ho fatto di auguri a mia madre ricordo sempre in ritardo questa ricorrenza a dire la verità forse sempre un po all'ultimo momento e forse se fossi un figlio perfetto e purtroppo non lo sono forse farei anche un bel regalo alla mia mamma in questa occasione però sono stato un bravo figlio la settimana scorsa non ve l'ho raccontato forse ma sono andato a fare una visita al mio papà dove riposa adesso da qualche anno comunque le buone notizie non sono finite con questa bella ricorrenza in famiglia domani finalmente dopo molti mesi in cui non siamo riusciti ad organizzarci domani finalmente ci sarà la rimpatriata gli amici che mi seguono da un po sanno bene cosa significa questo la rimpatriata è una serata con i miei vecchi amici amici che ho dall'adolescenza quindi da quando ero un adolescente un ragazzino amici che ho da più di 30 anni e da un po di tempo a questa parte abbiamo iniziato questa abitudine di vederci una volta al mese per una serata insieme in un ristorante o a casa di qualcuno purtroppo negli ultimi tre mesi mi pare non siamo riusciti a farlo per impegni di vario tipo di molti di noi loro hanno tutti una famiglia con dei figli io sono uno dei pochi scapoli quindi non sposati senza figli ma loro hanno molti molti impegni e quindi a volte non è facile domani andremo in un ristorante nella nostra zona e ci sederemo sederemo a tavola per farci quattro risate passare una bella serata insomma e perché no ricordare anche i bei vecchi tempi in cui eravamo molto giovani a volte un po stupidi ma sicuramente un tempo in cui ci divertivamo tanto tutti insieme con pochi pensieri e la mente molto leggera ecco quindi domani sera rimpatriata e ovviamente vi racconterò com'è andata poi nel prossimo episodio nel prossimo episodio di italiano in podcast spero che già dalla prossima volta saremo 3000 no scherzo ma mi aspetto in questi giorni una crescita più veloce datemi una mano chiamate i vostri amici invitate tutti a ad ascoltare il podcast e ad imparare un po di italiano ecco comunque questo è il riassunto di queste giornate da dall'ultimo episodio di queste giornate dal giorno di pasqua dalla buffata in famiglia del giorno di pasqua non c'è molto altro da dire solo che il tempo sta migliorando piano piano le giornate diventano sempre più piacevoli passeggiare la mattina al pomeriggio la sera è davvero molto rilassante si sente questo profumo nell'aria di primavera le corse sono più più divertenti insomma nell'aria c'è la primavera non è ancora esattamente qui ma manca davvero molto molto poco e spero presto anche di fare il primo tuffo del 2024 beh tutto qui direi in questa puntata di festeggiamento vi voglio dare solo un paio di notizie come tradizione un paio di notizie più importanti che ho scelto per voi oggi una riguarda uno dei tanti scandali del mondo politico italiano in puglia pensate si è aperto questo enorme scandalo di voti comprati con addirittura 50 euro a voto per me sembra così poco 50 euro per vendere il proprio voto è quasi vergognoso ma i politici più importanti della puglia in questo momento quasi tutti del partito democratico sono coinvolti in questo enorme scandalo di compravendita quindi hanno comprato i voti dagli elettori per essere eletti c'è ovviamente un come dire un gran casino nel senso che il movimento 5 stelle ha deciso di sospendere le alleanze con il partito democratico perché questo è uno scandalo molto grande ovviamente il partito di giorgia meloni la nostra premier grida allo scandalo per questa situazione che è oggettivamente scandalosa comunque niente di nuovo sotto il sole i politici fanno casino voi sapete la mia opinione su questo una bella notizia invece anche questa è una bella ricorrenza oggi compie 70 anni fiorella mannoia una delle più grandi cantanti italiane una delle più amate cantanti italiane che è ancora in grandissima forma infatti fra poco inizierà un tour estivo e intanto in questi giorni anche è in concerto ma purtroppo non mi ricordo dove esattamente ma certamente questa grandissima artista italiana è sempre molto impegnata è sempre molto amata nonostante appunto oggi abbia compiuto 70 anni il suo la sua energia è ancora tantissima e ovviamente ci regalerà tante altre emozioni vi consiglio di ascoltare un po della sua musica ci sono delle canzoni molto famose che lei ha cantato e sono certo che a molti di voi la sua voce piacerà e anche insomma le canzoni che ha interpretato direi che non c'è altro da aggiungere per oggi facciamo un episodio più leggero più tranquillo voglio prepararmi per il prossimo in un modo più come dire voglio cercare forse qualche novità da aggiungere finalmente al podcast per festeggiare un po questi bei traguardi voglio trovare il tempo di aggiungere i cambiamenti di cui parlo sempre di trovare qualche buona idea per rendere tutto questo lavoro tutto il vostro lavoro più facile e più divertente chiudiamo con una frase celebre e la frase celebre di oggi la voglio dedicare proprio a fiorella mannoia visto che è il suo compleanno ma in realtà tutto questo episodio però lo voglio dedicare a italiano in podcast cioè al podcast stesso perché lo merita merita una dedica mi dà molta soddisfazione sono ormai tre anni e mezzo che faccio questo 744 episodi e piano piano giorno dopo arrivano tutte le soddisfazioni che mi aspettavo di ricevere e quindi chiudiamo questo episodio numero 744 con questa bella frase celebre da una canzone di fiorella mannoia e il verso che ho scelto per tutti voi è questo qualche giorno è sempre meglio guardo avanti e non mi sbaglio so precisamente cosa c'è per me e devo dire che oggi mi sento un po così è una giornata in cui mi sembra di guardare avanti e di sapere precisamente cosa c'è per me e quello che c'è mi piace mi piace molto sono sicuro che sarà bello scoprire se ho ragione o no con il lavoro dei prossimi mesi e con tutti gli impegni che ho il podcast il blog la maratona e tutto il resto insomma sono sicuro che arriveranno cose belle e sono sicuro che arriveranno cose belle anche per tutti voi i miei carissimi amici ascoltatori di italiano in podcast l'invito è sempre lo stesso continuate a seguirmi mi raccomando mi raccomando è un'espressione molto particolare in italiano può avere molte sfumature e molti significati cerco di spiegarlo a Jay piano piano può significare molte cose che lei mi chiede sempre ma cosa ti raccomandi quando lo dico a lei a volte è semplicemente un modo per dire stai attento stai attenta a volte è un modo per dire non sbagliare ricordati di qualcosa a volte è un modo per dire prendi di cura di te insomma mi raccomando a tanti significati in questo caso mi raccomando significa non dimenticate di seguire e di ascoltare ancora italiano in podcast forse nei prossimi episodi vi spiegherò meglio questa questa espressione che a seconda del tono del modo in cui si dice può essere una cosa gentile può essere una minaccia può essere perfettuosa ma può essere anche severa insomma può avere moltissime sfumature ma comunque ci sentiamo presto vi do l'appuntamento al prossimo episodio mi raccomando non mancate il vostro sindaco per il momento ha finito il suo comizio quindi è tempo di andare e riposare un po' è come sempre quindi paolo vi saluta e vi ringrazia e ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.